Sono Bafile Domenico e sono candidato con la lista Cattolici e Democratici per l'Aquila. Io sono un ingegnere e ho deciso di candidarmi per mettere la mia professionalità a servizio della mia città. Ho scelto di candidarmi con Cialente perché ritengo che in questo particolare momento storico sia l'unica persona in grado di dare una continuità e una stabilità alla nostra città. Grazie a tutti.